Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi chi è… Ciao a tutti, in questo breve video vi voglio mostrare come aggiornare il firmware della Kung Fu Flash all'ultima versione. Infatti, acquistando una Kung Fu Flash, il firmware presente al suo interno potrebbe non essere l'ultima versione disponibile. Avevo già realizzato una video recensione della Kung Fu Flash, chi fosse interessato può andare a vederla sul mio canale YouTube. Kung Fu Flash è un progetto open source. Bisogna innanzitutto andare con un PC sulla pagina GitHub relativa al progetto. Bisogna scorrere in basso la pagina web fino a trovare firmware update e poi cliccare su Here. Nella pagina che si apre si può trovare lo storico delle varie versioni. Bisogna scaricare il file .upd e copiarlo nella scheda di memoria microSD, quella che poi andremo ad inserire nella Kung Fu Flash. Dopo aver inserito la Kung Fu Flash nella porta d'espansione del Commodore, ovviamente con la microSD installata, andiamo quindi a selezionare il file che abbiamo copiato, in questo caso la versione 1.14. Come si può notare, la versione di firmware installata sulla Kung Fu Flash è la 1.12. Lo voglio aggiornare alla 1.14, quindi premo invio affinché il file venga caricato. Mi richiesta la conferma dell'operazione, quindi schiaccio upgrade. Il processo è molto veloce e ci troviamo con la Kung Fu Flash in versione 1.14. Se questo tutorial vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube dove potete trovare altri video di esperimenti e recensioni. Un saluto da Amedeo Valoroso. Grazie a tutti.